nuova borsa fatta con un tessuto molto simpatico colorato colori del mare del cielo leggera diciamo che è pressoché primaverile estiva è una bellissima forma e media come misura ho fatto i manici da spalla la fodera bianca con la tasca in tinta con i colori del mare è un jeans blu e un jeans azzurro che ho usato è un tessuto di cotone è veramente molto bello macchiato con l'azzurro il verde molto carino adesso vediamo quando sarà finita ciao